Ma vi dico una cosa importante, sono importanti queste elezioni comunali in tutte le città perché voi sapete che noi abbiamo un governo che non è stato eletto dall'italiano, un governo che sta facendo male all'Italia, un governo che ha sfruttato una grande tragedia come il Covid per incontrarsi come dei franco bolli alle portoglie. Allora io credo che se vinciamo in più comuni possibili, se vinciamo come io sono certa in Puglia, nelle Marche, in Veneto, in Liguria e guardate che anche in Toscana è la nostra portata per vincere, ecco, io spero che venga messa una pulce dell'oregno del Presidente della Repubblica perché la nostra Costituzione dice che quando c'è una differenza importante tra coloro che ci governano e il sentire degli italiani si possono sciogliere loro. E allora diamoci da fare a Salonno come in tutti i comuni, ne abbiamo 85 che vanno al voto nella regione Lombardia per vincere, per convincere, ma per mandare anche un segnale forte e chiaro che gli italiani non vogliono questo governo. Grazie.